Che puntata! Intanto adesso gli spareggi finali sono fatti, devo dire, al funnicotone, perché le coppie sono molto molto calde, molto preparate e si vedono delle cose che uno dice ma porca miseria, ma possibile che uno così bravo debba uscire di gara? Però adesso questo è, pensate all'eliminazione successiva, nella settima puntata davvero, boh, come andrà a finire? Chi lo può dire? E poi una puntata interessante perché le personalità vengono messe a fuoco ancora di più quando tu sei costretto a sopravvivere. La prova sul stiletto, la prova sui tacchi, ha costretto le coppie alla sopravvivenza e a cercare il tutto e per tutto per venirne fuori e lì sono venuti fuori i loro caratteri. A voi il giudizio su chi vi è piaciuto e non vi è piaciuto. Baci e buona Pasqua!